Una cerimonia per ricordare un amico e un sostenitore prezioso è quella che ha organizzato l'associazione cortonese Amici di Vada per onorare la memoria di Marcello Bartalucci, il presidente del gruppo elicotteristi Valdichiana di Bettolle che il 25 marzo scorso perse la vita precipitando con il suo elicottero durante un volo di addestramento. Da alcuni anni Bartalucci intratteneva un rapporto stretto e affettuoso con l'associazione Amici di Vada che si occupa di attività ricreative in favore di persone diversamente abili. Bartalucci aveva messo più volte a disposizione gratuitamente i suoi elicotteri facendo sperimentare l'emozione del volo anche a ragazzi con gravi difficoltà motorie. La manifestazione si è tenuta all'eliporto di Bettolle. Il presidente Marco Bassini di Amici di Vada ha consegnato una targa in memoria alla vedova Marena e ha fatto simbolicamente innanzare due lanterne volanti nel cielo serale. Ha preso parte alla serata anche il parroco di Bettolle Don Osman che ha ricordato con rimpianto il comandante Marcello con il quale condivideva la passione per il volo. Alla commemorazione benché minacciata dalla pioggia e dal freddo non è mancato nessuno dei ragazzi e delle ragazze di Vada che conserveranno sempre gratitudine per questo amico troppo presto perduto.